E' stato presentato presso la Scuola Superiore di Polizia il calendario 2015 della Polizia di Stato, realizzato con gli scatti del tre volte premio Oscar Vittorio Storaro. Si tratta di un calendario che rompe la tradizione dei calendari della Polizia, raccogliendo 12 scatti d'autore, con cui il maestro ha deciso di rappresentare il tema delle abilità che il poliziotto quotidianamente mette al servizio del cittadino. Attraverso uno stile artistico, classico e a lui congeniale, Storaro gioca con le trasparenze per mostrare il dettaglio, il particolare e il tutto in un'unica immagine. Come un regista dissolve le immagini e le sovrappone, usa la luce puntiforme per tagliare le ombre come una lama e disegnare sagome di donne e di uomini della Polizia di Stato in ambientazioni fisiche, spirituali, reali e oniriche. L'idea alla base di questo calendario 2015, ha dichiarato il capo della Polizia, prefetto Alessandro Panza, è che la Polizia di Stato, attraverso il lavoro delle sue donne, dei suoi uomini, esprime una gamma di qualità e di abilità che vanno ben al di là della sia pure indispensabile azione di prevenzione e perseguimento dei reati. Oggi la Polizia di Stato possiede il know-how di un'azienda in grado di affrontare tutte le più complesse e sofisticate sfide della modernità, ma non dimentica la pratica delle più importanti virtù umane e civili. Questo è il mix interpretato da Storaro. La vendita del calendario ha permesso di ricavare 110.000 euro che verranno devoluti al progetto UNICEF Nutrizione per i bambini vittime dell'emergenza umanitaria nella Repubblica Centroafricana. Salgono 1.998.000 euro i ricavati delle vendite dei calendari della Polizia ed evoluti ai progetti UNICEF nel corso degli ultimi anni. Salgono 1.998.000 euro i ricavati delle vendite dei calendari della Repubblica Centroafricana.